Fila per Erania Jet, Isterrab, Elisa, Sesedra, Eldora Dabella, Esperanza Alba, SM ed Ermione Leone. In seconda Elsa Marra, Ebora, Elisir FKS, Lodiri, Saia, TRGF, Europa CG, Electra Izeta, Electricity, MDM. In terza Ellen dei Gliulivi, Elisabetta Griff e Dederra Banna. I numeri 1 e 6, Aladdire, Erania Jet e Esperanza Alba, SM, corrono il rapporto di scuderia, problemi in fase di allineamento per il 15 Electra Izeta. Chiusura delle ali, Vigaloppo, Eldora Dabella, assume il comando Isterrab attaccato a largo da Elisas. Elisas rientra ad Esedra e sfila a condurre su Isterrab e qui fianchi c'è Esedra. Parte bene dalla seconda fila, Elisir FKS, poi via via le altre. Si viaggia a ritmo sostenuto, Isterrab è rientrato ad Elisas e guadagna una posizione all'interno dell'Isir FKS. Allargo la stessa Elisas con Ischia e Esedra, poi Europa CG, veloce dalla seconda fila, a precedere Erania Jetta. Addirittura 43,9 i 600, metà gara volati in 59 secchi. Un minuto scarsi, perdono. Continua di buona lena Isterrab con Elisas sempre protesa ai suoi fianchi ed Esedra in Eschia. chilometro ultimato in 1,147, alle prese Isterrab ed Elisas, poi Esedra. Elisir FKS perde qualche battuta, prova ad inserirsi il 9 El Samar, tre quarti di miglio volati in 1,30 scarsi. Isterrab ha respinto definitivamente Elisas. L'ingresso in retta d'arrivo, Isterrab in vantaggio nei confronti di Elisas che si ripropone, poi Esedra. Isterrab in vantaggio, stappato Isterrab, Isterrab fino alla fine. Mentre Elisas è avvicinata in prossimità del traguardo, ma non superata da Esedra. Per cui l'arrivo probabile ed ufficioso è 2,34. Medie di 1,158 per la vincitrice Isterrab. Una figlia di Pace del Rio e Denivolo. Francesco Esposito al training, i colori del signor Francesco Malapena, Insalchi, Crescenzo, Maione, da un capo all'altro.